Volete sapere un trucco per fregare chi vi fa lavorare in nero? Allora, dovete sapere che di recente la Cassazione ha detto che se anche dentro il luogo di lavoro non si possono fare né registrazioni audio né filmati video, visto che si tratta di un luogo riservato e tutelato quindi dalla privacy, ciò non vale però se lo scopo è di tutelare i nostri diritti, come appunto nel caso di dimostrare che stiamo lavorando in nero. Quindi se qualcuno vi fa lavorare in modo irregolare, voi azionate il cellulare in modalità video audio e costituitevi la prova, non dico tutti i giorni ma di frequente. Poi potete usare questi filmati contro il datore di lavoro per fargli causa anche fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questa è la legge.